Musica Ho fermata la cena per stasera Mi sono dimenticata la cena Spezzatino di pino pronto in tre minuti Ragazzi per questa sera tutto a posto Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone Ma hai cucinato tutta la mattina? Tre minuti, ci ha messo solo tre minuti Giovanni Coppiello Il piacere del gusto E la pezzina ogni giorno costa sempre di più E la lira cede e precipita giù Svalutation Svalutation Cambiano i governi, niente cambia la sol C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù Svalutation Centini telespettatori di Prima Free e di Internet Ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera Che vi aggiorna, che vi informa E che vi fa un po' di buona compagnia Anche oggi come succede spesso Ho solo l'imbarazzo della scelta Tanti sono gli argomenti a mia disposizione Aumentano sempre di più le mie sentinelle Sparse su tutto il territorio nazionale Allora Do oggi la mia copertina A una notizia frivola per la maggior parte Dei miei telespettatori Ma per me è importante Può darsi che sia una bufala Non lo so Ma anche Se fosse una bufala Questa notizia Rappresenta per me Motivo di approfondimento Motivo per parlarne con voi C'è un tale Pier Silvio Berlusconi Sapete chi è Pier Silvio Berlusconi? Il secondo genito Del Cavaliere di Arcore Quello che ha preso in mano Mediaset Quello che parla un po' In maniera strana Bravo ragazzo Parrebbe capire Che vuole Bloccare Il grande fratello Quella Trasmissione Che io Non ho mai visto Ve lo giuro davanti a Dio Sull'onore Della mia famiglia Sarebbe Troppo per me Intrattenermi Davanti al televisore E vedere quella Sporcizia Qualcuno dirà E come fai A sapere Del grande fratello Perché io seguo Striscia la notizia Che spesso fa riferimento Alle vicende Del grande fratello Condotto da un personaggio Pittoresco Tutto particolare Lo vorrei definire In una certa maniera Ma non posso Me lo vieta il politicamente corretto Si chiama signorini Allora io tifo Sempre se fosse vera la notizia Perché Silvio Pier Silvio Berlusconi Metta Fine A questo Caravan Serraglio Ditemi voi I contenuti Del grande fratello Però Si dice Che ci sono milioni Di telespettatori Che seguono Questa trasmissione I dati Auditel Apro una parentesi Ogni tanto ne approfitto Per dire qualcosa Sui dati Auditel Io non ci credo Sono Anacquati Pilotati Avete mai Conosciuto Voi qualcuno Che ha A casa Quella famosa cassettina Che ti consente Di verificare Il numero delle persone Per me è una pagliacciata I dati Auditel I miei Sono quelli veri Sono quelli che io Riscontro De visu Cioè di persona Dovunque io Vada C'è gente che mi riconosce Quelli sono i veri dati Auditel Per me Non Un pezzo di carta Che ti serve Per vendere pubblicità Ma Lasciamo stare I dati Auditel Io vorrei Suggerire A Pier Silvio Berlusconi Di andare avanti In questo suo Pensiero Elimini Il grande fratello Le ricordo Signor Berlusconi Che si sta rivoltando Nella tomba Suo papà Perché dovete sapere Che questo Giovanotto Di grandi ambizioni Ha reclutato Ha assoldato Tanti compagnucci Di sinistra Hanno trovato ricovero In Mediaset Io non avrei mai fatto Una cosa del genere Si dice che addirittura Travaglio Possa far parte Di Mediaset Uno dei più Grandi nemici Di Silvio Berlusconi Sta reclutando Di tutto E di più Signor Pier Silvio Berlusconi Rifletta Va bene che Mediaset Ha un potere enorme Però la ruota Può girare Stia attento E mi accontenti Se non altro Va davanti Nel suo Strategico pensiero Di eliminare Il grande fratello Adesso Adesso a beneficio Di chi non credesse Per evitare Che si possa pensare Che Spatalino Inventi le notizie Offro Il contributo Documentale La carta canta Il contributo Che mi ha mandato Una mia sentinella Dai regia Pier Silvio Vuole chiudere Il grande fratello Qui vediamo Signorini a sinistra Il padrone di casa Il conduttore Non mi piace per niente Quel signorino E qui a destra Pensieroso Sul da farsi Pier Silvio Berlusconi Signor Berlusconi Mi creda Mi stia a sentire Raccolga Il mio suggerimento Chiuda Questa trasmissione Circenze È uno Un obbrobrio Mi creda Berlusconi Chiuda Il grande fratello E ne guadagnerà Anche la sua immagine Adesso Non posso Non parlare Per qualche minuto Ai miei purtroppo Virtualmente Perché Cosa non farei Per avere Al mio fianco Il ministro Della difesa Della difesa Guido Crosetto Perché una cosa È parlare virtualmente Altra cosa Ben differente È avere la possibilità Di colloquiare Di colloquiare Con una persona Che ti sta vicino Magari anche Dirgli qualcosa Fuori onda Signor ministro Ma non sarebbe Ora Di finiamola Ah mi perdoni Mi ero Dimenticato Di parlare Con un ministro Della repubblica È ora di finirla Noi qui A prima free Siamo abituati A parlare In una certa maniera Con una vocazione Spataliniana È ora di finiamola Basta Basta Mandare Aiuti A Zelensky Che si arrangi Quell'attore Quel comico Da quattro soldi Che siano gli americani A sostenere L'Ucraina Ma chi se ne frega Di Zelensky Dell'Ucraina Le ricordo Signor Crosetto Che l'Italia Ha ben altre priorità Noi dovremmo Utilizzare I soldi Che spendiamo Per mandare Aiuti All'Ucraina Li dovremmo utilizzare Per aiutare La nostra gente Chi non ce la fa Ad arrivare A fine mese Ritoccare le pensioni Non farci pagare Il ticket Ecco Mi spingo Oltre oggi Vedete Sono sicuro Che anche I tanti miei detrattori Fra i quali Qualche sacchetto A perdere Ci sta sempre È d'accordo con me Domanda Che io pongo È meglio Spendere soldi Per aiutare L'Ucraina Perché Anche quello È un costo Non è che il tutto Avviene gratis E tamore dei Le armi costano Il materiale bellico Costa Allora io Bloccherei il tutto Direi Non direi Marameo Dai Non l'offenderei Direi Con una nota scritta In maniera Burrocratese Vista la situazione Siamo spiacenti Di sospendere Gli aiuti Tanto al ministero Ci sono tanti Scribacchini Tanti scrivani Che scrivono Per i ministri Una bella lettera Forte Si può fare E utilizzare Quei soldi Per aiutare Gli italiani Andare incontro Per le bollette Acqua Luce Gas Dai Non sarebbe più utile Fare questo Invece no Ci perdiamo Ma quello Che mi ha colpito E vengo Aldunque Signor Ministro Crosetto La sua affermazione Inquietante Per certi versi Apodittica E mi perdonerà Se in maniera Del tutto goliardica Dico al ministro Crosetto Di vergognarsi Per quella sua Oscena Infame Uscita In Parlamento Interviene la mia regia Per supportare Quello che ho detto Aiuti All'Ucraina La Camera Dice sì E per forza La Melonia Anche d'accordo Gli altri Peones Gli altri Yes Men Devono dire di sì Non c'è nessun Enzo Spatalino Che si alza E dica no No Basta Ucraina È tutta una messa In scena Crosetto Ha detto Un passo indietro Sarebbe un Drammatico Errore E facciamolo Può pure vedere Dai Mentre lui sta parlando Elegante Col suo vestitino Signor Crosetto Perché Secondo lei Un passo Indietro Sarebbe Rappresenterebbe Un drammatico Errore No Il drammatico Errore Signor ministro È quello Di continuare A foraggiare Il comico È quello Di continuare A spendere Soldi nostri Per una causa Che non ci compete Quello sì È un drammatico Errore È ora Di finiamola Signor Crosetto Una manciata Di secondi E dopo Vado a chiudere Con una notizia Bruttissima Almeno per chi Vi parla A fra qualche Secondo Vuoi migliorare L'efficienza Termoacustica Del foro finestra E ridurre il tempo Di posa in opera Del tuo serramento Repac Azienda leader Con ventennale esperienza Nella lavorazione Dell'EPS Ha brevettato Shutterbox L'innovativo sistema Monoblocco Termoacustico Con Shutterbox Repac Garantisce la soluzione A tutti i problemi Di posa Ed isolamento Termico e acustico Del vano serramento Repac La risposta qualificata Per serramentisti E professionisti Contattaci Abbiamo la risposta Su misura per te Repac E a Campodarsego Padova www.repac.it Ben ritrovati Gentili telespettatori Di Prima Free E di Internet Chiudo Con questa brutta notizia Viene da Palermo Hanno ammazzato Hanno bruciato Non so Che fine ha fatto Un povero Cagnetto Leggo Leggo Alcuni titoli Per poi dire qualcosa In proposito Alla mia maniera Palermo Da fuoco A un cane vivo Dopo averlo attaccato A un palo In via Delle croci Shock In piazza croci Un uomo Lega un cane a un palo Della luce E gli da fuoco Orrore in strada Cane legato a un palo E dato Alle fiamme E ancora Dai Cane bruciato vivo L'animale L'animale era stato Legato a un palo L'arrestato Ha anche danneggiato L'auto Della polizia Avete sentito I titoli Un uomo L'arrestato Di che nazionalità Si tratta Premesso Che anche Se fosse Italiano Io gli darei La stessa pena Sia ben chiaro Però Ho qualche dubbio Dov'è Il titolista Di questo giornale Lo vorrei vedere Devi dire Un uomo La nazionalità È troppo Generico Un uomo L'arrestato Avete paura Se fosse Un extracomunitario Di dire Un uomo Di colore L'arrestato Straniero Vergognatevi Giornalai Di strapazzo Dite la verità E qui sbaglia Anche il governo Perché io Enzo Spatalino Presidente Del Consiglio Radunerei La ciurva Dei ministri E farei In 24 ore Ve lo giuro Davanti a Dio Un provvedimento Chiaro Da applicare Chi commette Queste atrocità Ai danni Degli animali Deve andare Deve andare Come minimo In galera Minimo Dieci anni Senza Sconti Di pena Senza Rito Abbreviato E spiare E spiare in galera Straniero 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 che sia Attenzione Per me La nazionalità Per il caso Di cui parlo È del tutto Irrilevante Ininfluente Ininfluente Chi commette Una roba Del genere Deve andare In galera Per dieci anni Vergognatevi Vorrei io Andare a Roma Vorrei far parte Dell'esecutivo Ordine Disciplina Rispetto Delle regole E domani Parlerò anche Un po' Dei magistrati Correrò Un grosso rischio Perché prima o poi Mi arresteranno Ma devo dire Quello che ho In corpo Anche nei confronti Di quella Categoria Protetta Quella dei magistrati Sempre viva Giovanni Di Falcone Paolo Borsellino Si intende A domani Per il seguito Grazie di cuore Per la vostra cortesa E attenzione Nei nostri confronti Un grazie Ai miei sponsor E un grazie Per la parte tecnica Al nostro Simone In cabina di regia E ora Di finiamola Arrivederci Per la vostra corte Per la vostra corte